Ci aspettavamo qualcosa di più, ma abbiamo già intanto le basi per, speriamo, portare avanti il nostro, diciamo, movimento e siamo appena dati, quindi vabbè, diciamo, ci auguriamo di essere all'interno del corso nucleare, perché stavamo ancora aspettando di verificare se saremo vedo all'interno del corso nucleare. Se ci fosse una rappresentanza rosa sarebbe bello.